Ciao lettere elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video un secondo piatto irresistibile e saporito sarà tutto pronto in pochissimi minuti sto parlando della frittata napoletana scopriamo insieme quali sono gli ingredienti e quali sono i vari passaggi iniziamo a lessare i nostri friarielli in una pentola piena d'acqua quando avranno la consistenza che desideri togli dal fuoco e mettili in un colapasta a sgocciolare premendoli con un mestolo invece in una padella capiente versa l'olio e soffriggi l'aglio precedentemente sbucciato aggiungi poi i friarielli e friggili a fiamma dolce intanto in una ciotola rompi le uova aggiungi il parmigiano, il sale e un pizzico di pepe sbattile aiutandoti con una forchetta o con una frusta a mano aggiungi i friarielli nelle uova sbattute e mescola ancora per amalgamare il tutto riversa tutto nella padella e cuoci a fuoco lento prima da un lato e poi dall'altro metti la frittata napoletana su un foglio di carta assorbente da cucina e tamponala per eliminare l'olio in eccesso come sempre se ti va lascia un like e iscriviti al nostro canale grazie! grazie!